Mi ricordo un odio profondo per quello che avevano commesso anche in Russia. Si entrava in un villaggio, trovavi impiccati, impiccati, e anche le torture nelle carceri. Io ho anche un ricordo molto positivo, che anche dei tedeschi hanno combattuto nella guerra di liberazione. Io avevo una trentina di disertori tedeschi. Poi c'è una brigata interamente di tedeschi, forse austriaci, però austriaci e tedeschi allora hanno la stessa cosa. Che combattì vicino a Bolzano era il Freudeutschland Battalion, che poi con il 25 aprile si sciolse e non ne sappiamo più niente.